Ex concorrente del Grande Fratello demolita dai commenti su X. Il caso è nato perché la giovane, nel cast dell'edizione appena trascorsa del reality show condotto da Alfonso Signorini, vinto dall'ex volto di Temptation Island per Lavatiero, ha risposto a un tweet di Rita dalla Chiesa, che anche in passato non ha nascosto di sostenere Beatrice Luzzi. Imbarazzanti tutti gli ex del cancelletto GF che non si fanno una ragione del fatto che nessuno se li fili. Ma cosa si aspettavano, e è finita la trasmissione, fra un po' saranno dimenticati anche loro punto a parte la grande vittoria di Bealuzzi Fanpage e la normalità della vita è un'altra cosa, ha tuonato la parlamentare ed ex storico volto della televisione italiana. E così l'ex Geffina ha voluto rispondere ma è stata sommersa da una valanga di critiche. Sentendosi evidentemente presa in causa, Giselda Torresan, che mai ha nascosto il suo odio verso Beatrice Luzzi, ha scritto, dite Rita dalla Chiesa che ho lavorato 14 anni in fabbrica e può verificarlo. Dite che se tutto va bene inizierò un corso. Dite che il pubblico ha scelto Perla Cuore Rosso, ha scritto su X. Ma la reazione del web è stata una valanga di critiche e commenti. Prendi una camomilla doppia Il pubblico ha scelto beh appunto il suo fandom e quelli del Branco Perla Con 30000 di schede, vai a dormire che è meglio. Prendi una camomilla doppia Il pubblico ha scelto beh appunto il suo fandom e quelli del Branco Perla Con 30000 di schede, Giselda dietro lo schermo sei molto brava a parlare. Lascia stare Beatrice che come vedi non si sta filando nessuno perché una vita ce l'ha Ti auguro di dedicarti alla tua Si legge tra i commenti del tweet dell'ex GF E ancora Il pubblico ha scelto Perla ma a quanto vedo si parla ininterrottamente di Beatrice da giorni Già questa è una risposta molto valida e fa capire moltissime cose E niente, il pubblico ha scelto Perla Fa già ridere così Sono 5 giorni che si parla solo della rossa Ma vabbè son dettagli Ma tu ancora esisti Sei stata una comodina insignificante nel reality Ma ancora parli Il GF lo ha vinto Beatrice Luzzi Tutti parlano di Bea, la protagonista indiscussa Mentre Merla ha vinto l'edizione invernale di Temptation Il video finisce qui Ma se sei interessato alle news Puoi iscriverti al canale e attivare la campanella Per non perderti i nuovi video